Alla fine l'eurodeputato di centro-destra Antonio Tajani ce l'ha fatta, dopo una giornata interminabile di scrutini, stato eletto Presidente del Parlamento europeo, ora sarà lui a prendere il posto di Martin Schulz alla guida dell'organo legislativo dell'Unione europea. Una sfida all'ultimo voto con il socialdemocratico Gianni Pittella, in cui Antonio Tajani è riuscito ad ottenere la maggioranza necessaria. È stato un confronto democratico nel suo discorso di ringraziamento davanti all'Assemblea che l'ha eletto, Tajani ha dichiarato che sarà disponibile e sarà il Presidente di tutti e che rispetterà tutti i deputati e tutti i gruppi. L'elezione di Antonio Tajani a Presidente europeo è motivo di orgoglio nazionale e di legittima soddisfazione politica, lo afferma in una dichiarazione il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Calabria, Alessandro Nicolò. Antonio Tajani, oltre che possedere un alto profilo istituzionale, continua Nicolò e tra i fondatori di Forza Italia, coerente sul piano organizzativo e sempre attento alle vicende politiche italiane. La sua elezione a Presidente del Parlamento europeo dunque inorgoglisce per l'ascesa di un italiano ad una funzione strategica molto delicata dopo quasi 40 anni. L'ultimo fu Emilio Colombo nel 1977 e marca con evidenza la forza straordinaria dei moderati popolari a Straburgo. Antonio Tajani, con lo stesso intelligente vigore che ha dimostrato nel corso di questi anni, saprà da quello scranno contribuire a rendere più unita e meno matrigna l'Europa nei confronti dell'Italia. Numerose pattuglie dell'arma dei carabinieri sono state impegnate nella Locride in una mirata strategia operativa che ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro un'ingente quantità di marijuana pronta per essere immessa nel mercato illecito. Nella giornata di ieri martedì 17 gennaio i carabinieri della stazione di Bovalino hanno tratto in arresto in flagranza di reato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti Stefano Gelonese, quarantenne del posto già noto alle forze dell'ordine, perché durante una perquisizione effettuata presso l'abitazione di Campania hanno rinvenuto abilmente occultate all'interno del fabbricato 120 piante di cannabis indica di tipo Nana, alte un metro e mezzo e che sono state sottoposte Il gelonese nonostante il grande freddo di questi giorni aveva allestito una vera e propria serra dove a temperature costante di 20 gradi erano messe a dimora le piante rinvenute. L'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Locri su disposizione dell'autorità giudiziaria. Per gli stessi motivi i carabinieri hanno denunciato una famiglia di Bovalino composta da tre persone perché durante una perquisizione locale effettuata presso la loro abitazione hanno rinvenuto una busta in celofan termosaldata contenente oltre 500 grammi di marijuana. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro per successivi accertamenti tossicologici. Scoperto traffico di reperti archeologici dai carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale che hanno eseguito 12 misure cautelari emesse dal GIP di Crotone e 35 perquisizioni con contestuale notifica di avvisi di garanzia nelle province di Crotone, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Catania e Reggio Emilia nei confronti di persone accusate di aver fatto parte di un'organizzazione criminale che avrebbe gestito in tutte le sue fasi un traffico di reperti archeologici con un giro d'affari di alcuni milioni di euro. Bersaglio prediletto dei tombarolli secondo quanto riferiscono i militari era il sito archeologico di Capocolonna a Crotone. Tra le persone arrestate uno stimato docente accademico e tra gli indagati diversi professionisti. Sono state sequestrate inoltre preziose collezioni con numerosi reperti archeologici di notevole interesse artistico, storico ed elevato valore economico. Sono stati riavviati ieri martedì 17 gennaio alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà i lavori di recupero e riqualificazione del monastero della visitazione di via Reggio Campi. L'opera finanziata con un importo complessivo di 4,7 milioni di euro prevede la bonifica e la riqualificazione integrale della struttura con la realizzazione di un centro polifunzionale interamente dedicato all'arte e alla cultura con una nuova pinacoteca, un museo civico e ampie sale per conferenze e incontri. L'ex monastero è stato realizzato nella seconda metà dell'Ottocento su uno dei punti più alti al centro del comprensorio urbano. Il monastero della visitazione è un altro dei luoghi dell'anima della nostra città, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà. Riattivare i lavori è un segno importante di rinascita per la nostra comunità. Una volta completata la struttura rappresenterà un nuovo polo culturale e artistico di inestimabile valore, in grado di fare il paio con il Museo Nazionale della Magna Grecia. Il riavvio dei lavori significa anche un nuovo impulso per l'economia cittadina. Il progetto di riqualificazione dell'antico monastero prevede la realizzazione al piano terra della nuova pinacoteca civica, suddivisa in due sezioni, arte antica e arte moderna. Un bookshop, un punto vendita per gadget, locali per la direzione e gli uffici, una sala polivalente. Al primo livello della struttura è invece prevista la realizzazione del Museo Civico della città, una biblioteca mediatica e ambienti per conferenze e seminari. Al secondo livello una terrazza panoramica e un'area tecnologica per l'ubicazione di pannelli fotovoltaici. Il chiostro centrale della struttura sarà recuperato architettonicamente restaurando i due fronti porticati del convento, realizzando sulla parete della diecente edificio scolastico una quinta di verde rampicante sostenuta da una griglia di acciaio. Gli spazi interni del chiostro saranno recuperati con una ripartizione del verde elaborata con un disegno a piccoli compartimenti risalente all'inizio del Novecento, che richiama quello di una decorazione musiva pavimentale o un parterre di palazzo settecentesco. Brutta avventura per due camionisti lituani rimasti bloccati ieri sera intorno alle 22 tra Cassari e Grotteria a bordo del loro mezzo a causa delle forti nevicate che hanno interessato la zona delle serre a cavallo tra le province di Vibo Valencia e Reggio Calabria. Nonostante le catene da neve a causa della neve e del ghiaccio sul manto stradale, il mezzo pesante a causa di uno slittamento si è adagiato su un muretto di contenimento laterale. Dopo oltre 72 ore alla ghiaccio e due malcapitati estremati dalla brutta avventura, hanno chiesto di essere accompagnati in un vicino hotel in attesa dell'intervento di un mezzo idoneo al traino del tir. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di roccella ionica. Tre proiettili di pistola sistemati davanti alla porta d'ingresso della pizzeria Schiavello di Vibo Valencia. Scoprirli è stato il titolare dell'esercizio commerciale ubicato in una zona centrale della città a poca distanza dal municipio che ha subito denunciato il fatto ai carabinieri. L'intimidazione è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso e i militari stanno vagliando le riprese di alcuni impianti di videosorveglianza della zona. E' il secondo ritrovamento di proiettili a Vibo Valencia dopo quelli sistemati nei giorni scorsi dinanzi all'ingresso di un locale su corso Umberto I. In una cronaca andiamo a Catanzaro, tentato suicidio sul ponte e intervento del 118 e vigili del fuoco. Un uomo ha minacciato di buttarsi giù dal ponte questa mattina. L'uomo in evidente stato confusionale è stato avvistato dai passanti che hanno contattato immediatamente forze dell'ordine ambulanza. Il pronto intervento del 118, vigili del fuoco e appunto anche le forze dell'ordine hanno evitato il peggio salvandogli la vita. L'uomo è stato poi trasportato in ospedale e ci sono stati disagi alla circolazione e l'entrata e l'uscita dal centro cittadino. Ancora a Catanzaro un tamponamento a catene costato ieri sera la vita di un noto commercialista di 55 anni di Catanzaro, Vincenzo Platì, è deceduto all'arrivo in ospedale. L'uomo, molto conosciuto in città, stava viaggiando a bordo della propria auto quando è rimasto coinvolto nel tamponamento con altri mezzi causato da una frenata improvvisa sull'asfalto viscido per la pioggia. E sempre a Catanzaro non si abbassa la sbarra del passaggio a livello, ci sono stati attimi di panico a Gimigliano dove al passaggio di un treno non si è abbassato appunto la sbarra del passaggio a livello. Una luce improvvisa, il treno che passava, sarebbe potuto succedere qualsiasi cosa, raccontarlo ancora scossa, in preda allo spavento, una residente che si trovava nelle vicinanze. È successo in serata ieri ed è importante sottolineare e riflettere su quanto è accaduto e sulla pericolosità. E la testimonianza, fortunatamente, non è successo nulla, ma come è possibile, questa è la domanda che bisogna porsi, che si possono correre questi rischi e che la linea ferroviaria sia sempre più abbandonata.